Era una volta in uno gioco con molti animali c'è l'orso, il leone, il gheppardo e il fuma. Un giorno il fuma furbo furbo scappò via. Subito il direttore dello zoo se ne accorse, ma dopo due giorni il direttore dello zoo e le guardie non riuscivano a trovarlo. Il fuma intanto passeggiava per la città. Le persone che lo vedevano salivano sopra il primo albero che vedevano. Ma dopo una settimana il fuma si sentiva solo, così decise di tornare allo zoo. Appena lo videro, entrare dal cancello dello zoo, il direttore e gli animali dello zoo facevano festa perché il fuma era tornato a casa. Era tornato a casa e così vissero tutti felici e contenti. Fili va!